La salute. Una ricchezza inestimabile. Un equilibrio che deve essere protetto. Da sempre progettiamo soluzioni in grado di semplificare la complessità. Nella sanità questo significa favorire il giusto equilibrio tra la protezione dei dati sensibili e la loro accessibilità. Sempre e ovunque. Le soluzioni di data protection di EMC e TEAM sono fondate su questo principio. Una piattaforma cloud in grado di integrarsi nell'ecosistema informatico preesistente e con il potenziale per migliorare la qualità del lavoro e della cura. Perché con l'archiviazione centralizzata dei documenti sanitari forniamo al medico uno strumento per conoscere il paziente nella maniera più completa. Fornendo la possibilità di accedere ad esami e diagnostica di altri reparti ma tutelando al tempo stesso la privacy delle persone. Perché con l'accessibilità dei dati anche da mobile rendiamo più flessibile l'erogazione delle prestazioni. E grazie alla solidità della nostra infrastruttura IT forniamo la base per garantire la continuità della cura. Perché semplificare il lavoro di un medico significa fare spazio al rapporto con il paziente e poter concentrare davvero tutti gli sforzi sulla ricerca della salute. Data Protection di EMC e TIM La sicurezza della salute